Abbiamo sentito l'assessore Libero Asioli in merito all'ampiamento del parcheggio in via Guidarelli, un progetto, quello del Fast Park, senza dubbio necessario per venire in conto alla futura trasformazione di Piazza Kennedy, benché vi siano numerosi parcheggi a Ravenna sottutilizzati dagli automobilisti, come ad esempio quello in via Beatrice Lighieri o quello vicino a Porta Serrata in via di Roma. Occupato perché comunque questo progetto portava con sé una variante di carattere urbanistico. In realtà diciamo che comunque nel luogo dove noi andiamo a costruire la struttura è già destinata a parcheggio, noi andiamo ad aggiungere ulteriori posti, circa una cinquantina. Credo che comunque alla fine questa sia una soluzione buona per la città, perché chiudendo Piazza Kennedy noi abbiamo bisogno di assicurare ai cittadini che giustamente vogliono recarsi in centro storico un luogo dove poter parcheggiare la macchina. Ci sono ancora delle potenzialità per ampliare il numero dei parcheggi in centro? Dunque, a mio parere sì. Intanto, noi dovremmo lavorare per fare in modo che possano essere utilizzati al meglio quelli che già attualmente ci sono, perché ci sono parcheggi proprio a ridosso del centro che sono scarsamente utilizzati, quindi promuovere e far conoscere meglio la situazione dei parcheggi a servizio del centro storico. Poi abbiamo comunque parcheggi sempre nell'intorno del centro storico che possono essere potenziati. Il parcheggio davanti ad esempio all'ex macello potrebbe essere benissimo raddoppiato. Il parcheggio in via Beatrice Alighieri anche questo potrebbe essere raddoppiato. Abbiamo quindi ancora una situazione che ci può portare ad aumentare ulteriormente i parcheggi in centro storico. Ripeto, la prima cosa è fare in modo che quelli che abbiamo siano utilizzati al meglio.